Continuano nel pomeriggio di oggi gli allenamenti dell'Agragast in vista della partita di sabato pomeriggio alle 18.30 allo stadio provinciale di Erice. Intanto ieri l'Agragast ha svolto all'esseneto una partita congiunta con la formazione Beretti. Dopo il riscaldamento le due squadre si sono sfidate in una gara amichevole per provare uomini e schemi in vista dei rispettivi impegni di campionato. Il mister Raffaele di Napoli ha inizialmente schierato la seguente formazione, Lomonaco, Mileto, Danese, Bramati, Pisani, Saitta, Scruggi, Navas, Moreo, Longo, Parigi. Il portiere Vono mentre ha difeso la porta della Beretti, Consepe, Vicente e Salvemini che hanno giocato nel primo tempo con la formazione di mister Alcursio Sclafani. Il test match è terminato con il risultato di 6 a 1. Le reti sono state realizzate da Parigi con una bella doppietta, Moreo, Scrulli, Jojo e Guici. Per la Beretti assegno Salvemini. Intanto sono arrivate per la Serie C, Girone C, le decisioni disciplinari del giudice sportivo dopo l'undicesima giornata. All'Agracast una multa di Euro 2005 perché un componente della panchina aggiuntiva, Ivi ammesso pur privo di tesseramento, rivolgeva una frase offensiva verso un assistente arbitrale. Intanto salteranno la prossima giornata di campionato per doppia munizione i giocatori Antonio Sepe dell'Agracast e Alessandro Massardi della Juve Stabia. Squalificati anche per una gara effettiva per ricidività in ammunizione i giocatori Francesco Salvemini e Bruno Vicente dell'Agracast. Intanto sprona la squadra il difensore biancazzurro Andrea Pisani. È stata sicuramente una sconfitta dove si è fatto riflettere molto, non solo a livello tecnico-tattico ma sotto tutti i punti di vista. Abbiamo affrontato una settimana partendo dal lunedì con una seduta a livello organico molto impegnativa. Ieri abbiamo fatto una doppia seduta a tutta quella palla dove ci siamo allenati ad alta intensità e oggi appunto abbiamo fatto questo test con la Beretti dove abbiamo messo in campo buone idee e abbiamo cercato di limare quelle cose che sono da correggere. Si servirà un'Agracast molto attenta in tutti i reparti e in tutte le situazioni di gioco. Motivata, quello non serve neanche dirlo perché queste partite qua è inutile dirlo, si motivano da solo insomma. Le motivazioni sono altissime, andiamo a giocare contro una squadra molto forte in casa loro e quindi ci sarà sicuramente tanta voglia di far bene. Sì, fisicamente ora mi sento molto bene, stiamo lavorando molto bene a livello atletico e quindi adesso veramente mi sento bene.